L'Unione straordinaria stamattina in prefettura Pesaro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Luigi Pizzi, alla presenza di tutte le più alte cariche rappresentative e dei vertici dell'azienda ospedaliera Marche Nord, per discutere della situazione, della sicurezza dentro e all'esterno del presidio ospedaliero cittadino, anche in relazione all'episodio di aggressione avvenuto il 7 aprile scorso all'interno del pronto soccorso e di relazione al quale sia i sindacati delle professioni infermeristiche di Pesaro e Urbino, sia la stessa direzione generale dell'azienda ospedaliera, aveva chiesto di istituire un presidio di fissa polizia all'interno della struttura sanitaria. A tale riguardo è emerso che la carenza di personale presso gli uffici della Polizia di Stato della provincia e la contemporanea esigenza di garantire altre priorità non consentono al momento di assecondare tale richiesta, ma che verrà intensificato il servizio di vigilanza nell'area ospedaliera, che comprende altri obiettivi sensibili, quali la stazione ferroviaria e la zona di via dell'Acquedotto. E inoltre, di comune intesa, si è stabilita l'attivazione di sistemi di collegamento in teleallarme tra i locali del pronto soccorso e le sale operative delle forze di polizia. Inoltre, in relazione ai recenti episodi di comportamenti molesti dei parcheggettori abusivi, specie in determinate aree del centro urbano, antistante all'ospedale, si è stabilita l'attivazione di servizi straordinari di controllo da parte della Questura e della Polizia Municipale, volti a prevenire tali condotte.